Ciao a tutti, io sono Nell'IRFA e oggi andiamo a parlare di talenti e perks su Fallout 76, quindi andrò a parlarvi un po' delle famose carte. Come sempre vi ricordo per aiutarmi di scrivere qui sotto nei commenti, fate le vostre domande e naturalmente mettete un bel mi piace a questo video, siamo sempre molto scarsi per quanto riguarda il mi piace, non costa nulla quindi fatelo per aiutarmi. Dunque iniziamo. Durante la creazione del personaggio o comunque nella parte iniziale del gioco in Fallout 76, il personaggio del giocatore inizia la partita con un punto per ogni attributo. Ogni volta che il giocatore sale di livello fino ad arrivare al livello 50, può poi scegliere un attributo special da aumentare a sua discrezione. Il punteggio massimo per ogni attributo è stato portato a 15 in questo Fallout 76. Oltre il livello 50, il personaggio del giocatore continuerà a salire di livello e potrà ridistribuire gli attributi special di un punto per livello, ma non potrà guadagnare punti aggiuntivi, rimanendo con un totale di 56 punti. Con il rilascio della patch Westlander, uno special può influenzare gli eventi successivi a seconda delle scelte che si fanno quando si parla con gli NPC e quando si affrontano problemi o dialoghi che richiedono determinate statistiche da superare. Con il rilascio di una zona contaminata per tutti i vari special, può essere aumentata di un massimo di 30 punti, equipaggiando i talenti leggendari in tutti e sei gli slot disponibili, seguendo alcune regole precise. Ora vediamo come si ottengono le carte. Ogni volta che si sale di livello si può scegliere una carta talento. Ai livelli 6, 8 e 10, e poi ogni 5 livelli invece si ottiene periodicamente un pacchetto di carte che contiene 4 carte perk causuali e anche ci danno una gomma da masticare. Dunque adesso andiamo a spiegare come vanno usate le carte. Ogni carta talento vale uno o più punti in attributo special quando si equipaggia. Il personaggio può equipaggiare più carte per ogni attributo quando il valore totale in punti carta è uguale o inferiore ai punti totali dell'attributo specifico. Alcune carte possono essere aggiornate per migliorare ulteriormente i benefici. Le carte di rango superiore vengono create combinando due carte identiche di rango inferiore. Dunque ragazzi vedete qui che ho due carte dura contrattazione identiche cioè con una stellina entrambe. Se io le ho quindi doppie e le vado a sommare mi daranno la stessa carta con la dorata di due ma con due stelle. Con lo stesso tipo di ragionamento posso andare a sommare le carte in modo da crearmi carte anche a tre stelle. Vediamo qui nell'esempio che ho una carta comunque ragazzi devono essere sempre carte uguali quindi con lo stesso titolo. A due stelle più una carta a una stelle vado a trovarmi una carta dello stesso titolo però a questa volta si vanno a sommare le stelle quindi a tre stelle. Il potenziamento di una carta ne aumenta anche la quantità di punti special necessari per l'equipaggiamento. Ad esempio aumentando i gradi della carta esecutore aumenterebbe il requisito di agilità da 1 a 2 al fine di equipaggiarla. Certe carte inoltre funzionano in modo particolare e servono appositamente per creare e modificare armi o armature o scassinare o hackerare. Dunque allora come ho detto prima ogni volta che andiamo a fare un livello possiamo assegnare un punto a uno degli attributi dello special. È necessario quindi sapere che per ogni caratteristica si può arrivare al massimo di 15 punti e che i personaggi smettono di ottenere punti special da assegnare dopo il livello 50. Quindi non sarà possibile potenzare tutti gli attributi al massimo. Dunque per poter creare il personaggio migliore in base alle proprie esigenze è importante sapere quali effetti hanno i vari attributi sul nostro personaggio. Ora li andiamo ad analizzare insieme. Dunque il primo attributo è la forza aumenta il danno che i personaggi infliggono con gli attacchi corpo a corpo utili soprattutto nelle prime fasi durante le quali le munizioni scarseggiano. Infatti come potete vedere io sto utilizzando il coltello. La forza inoltre aumenta il peso massimo trasportabile utile per coloro i quali desiderano dedicarsi maggiormente al crafting o alle costruzioni. Abbiamo poi la percezione. Incrementa la precisione delle armi usando il Weitz ovvero il sistema di mira del combattimento di Fallout 76. Inoltre aumenta la capacità di vedere i nemici nelle vicinanze. Percezione e agilità che poi vi spiegherò più avanti sono le principali caratteristiche per un personaggio che vuole agire in modo furtivo. Poi dunque cosa abbiamo? La resistenza che incrementa i punti attacco e permette di scattare più a lungo e aumenta la resistenza alle malattie. Quindi molto utile per questa nuova versione di Fallout 76 perché le malattie hanno un ruolo molto importante. Per quanto riguarda invece il carisma è un attributo un po' particolare quindi va aumentato soltanto per i giocatori che desiderano giocare in gruppo. Quindi coloro che giocano in solitaria non è del tutto necessario. A partire dal livello 3 carisma permette al giocatore di condividere i benefici di una carta perk con ogni membro del gruppo. Il carisma inoltre influisce sulle ricompense ottenute dagli eventi sempre giocati in gruppo. Quindi come vi spiegavo prima è da andare a aumentare più che altro se decidiamo di giocare con altri giocatori. Dunque poi cosa abbiamo? L'intelligenza. Questa influisce sulla qualità e sulla durabilità degli oggetti craftati. Influisce anche sulla quantità di materiali prodotti quando andiamo a distruggere i rifiuti o hackerare i computer. Dunque poi abbiamo l'agilità. Influisce sui punti azione che determinano il numero di attacchi che possono essere realizzati con il vice e quanto a lungo è possibile scattare. Inoltre influisce sull'abilità di passare inosservati quando ci andiamo ad accucciare. L'ultimo attributo che vi vado a spiegare è la fortuna. Quindi l'haki principalmente aumenta la qualità e la durabilità degli oggetti raccolti. Inoltre migliora i colpi critici. Quindi ragazzi è importante andare a sistemare per bene tutte quante le carte. Ricordo poi che su Fallout 76 c'è una componente survivor molto più importante rispetto al passato. Quindi la resistenza, la radiazione e l'approvvigionamento di cibo e acqua saranno molto importanti. Inoltre tutti coloro i quali preferiscono giocare con armi da fuoco devono comunque tenere in conto che gli attacchi fisici sono utili contro i nemici veloci. Comunque alcune cose da andare a sistemare. Comunque come ho detto prima ogni volta le carte le possiamo andare a rimettere e a togliere. Qui non ci dovrebbero essere grossi problemi. Comunque ragazzi commentate qui sotto. Fatemi delle domande se qualcosa non è chiaro. Mi raccomando mettete un bel mi piace a questo video per sostenere tutta la serie. Più mi piace ci saranno, più video arriveranno. Ciao a tutti e alla prossima!